benvenuti benvenuti cari amici siamo ubiti in questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale telegram oggi andremo a parlare di quello che è successo ieri su bitcoin ma non solo anche sulle altcoin e per cui iniziamo subito perché ieri c'è stato un bel dump su bitcoin pensate di ben 7 mila dollari siamo addirittura poi giunti a 43 mila dollari e pensate ci sono state posizioni liquidate per 2.6 miliardi di dollari come ci dicono qui ora sappiamo che il crash è stato violento anzi violentissimo però una cosa che vorrei dirvi è che di solito bitcoin non è che ci avvisa quando questo avviene sicuramente è stato un movimento manipolato che in particolare dell'exchange come possiamo vedere pensate le maggiori liquidazioni sono state riportate su buybit e la più grande singola liquidazione è avvenuta su hobby per un controvalore di 43 milioni di dollari proprio quando diciamo avveniva che El Salvador bitcoin diveniva moneta a corso legale ora qual è la situazione su bitcoin siamo a 46 mila e 400 dollari in questo momento in cui registro vi dico la verità siamo praticamente a una settimana fa siamo agli stessi livelli di conseguenza non vedo perché tante persone ok si sono allarmate secondo me è stato un flash crash eravamo arrivati a 43 mila dollari ora siamo praticamente a 46 mila e non vedo particolari problemi ora secondo me andremo a recuperare ma non penso entro settembre ok perché tradizionalmente è un mese molto bearish però attenzione perché questo è frutto puramente di manipolazione è ovvio per dimostrarvi tutto questo noi sappiamo che al momento i fondamentali sono saldi cioè dice anche il clemente non è con la liquidazione a cascata va a invalidare tutte le dinamiche che sono avvenute nel corso del tempo quindi vedi covide vedi stanziamenti per miliardi di dollari quanto ha stampato la fed quanto ha stampato la bce e così via che i fondamentali sono solidi se poi conoscete anche bitcoin direi che siamo ancora più solidi andiamo aggiungere anche questo perché vdv che cosa ci dice che l'adozione di bitcoin al momento è pari a quella di internet nel 1997 però la differenza qual è che bitcoin sta crescendo in maniera più veloce rispetto ad internet come vedete della figura siamo al di sotto anche rispetto agli account di paypal molto al di sotto e attenzione perché tra qualche anno esattamente tra quattro anni potremo essere a livello di internet nel 2005 quindi è raggiunto addirittura un miliardo di persone all'interno al blockchain e all'interno di bitcoin quindi potete immaginare che che prezzo potremmo avere un giorno su bitcoin nel frattempo naturalmente salvador non perde tempo perché buckele ci dice che ora il salvador detiene 550 bitcoin per cui naturalmente nella dip ieri hanno comprato non penso che sia stato un caso dal mio punto di vista secondo me comunque le mani forti si sono accordate e per cui il fatto che abbiano comprato addirittura 150 bitcoin secondo me deve fare pensare un pochino detto questo altra notizia importante è che proprio su uno dei principali ok newspaper giornali di El Salvador potete trovare in basso a destra il valore ok su bitcoin sempre ed in contemporanea quest'anno è importante notizia perché ci va a dire ecco oramai El Salvador oramai è amore vero ok per bitcoin detto questo però attenzione che anche Panama non sta a guardare perché sta dando vita a un disegno di legge per la regolamentazione delle cripto e come detto anche dal stesso presidente panamense questo andrà a creare nuovi posti di lavoro e la blockchain e renderà anche il governo ok tutte le misure più trasparenti ora vorrei vedere con voi un po' che cosa sta succedendo perché in generale bitcoin rispetto alle 3 settimane perde un 2.6 e tiri un meno 3% cardano meno 16% e così via l'unica eccezione per l'appunto è soliana con più belli 46% litecoin 4.8 bitcoin cash 3.2 però come vedete in generale è tutto rosso ora un'altra eccezione è anche ftx token più 39% perché perché proprio su ftx questo exchange che sta crescendo veramente tantissimo soprattutto negli stati uniti non so se avete visto ma anche numerose squadre di baseball sono sponsorizzate da ftx lancia i suoi nft cioè voi potrete coniare degli nft su ftx quindi è uno dei primi exchange sul quale si può fare questa cosa qui ora naturalmente come noi sappiamo le principali reti diciamo di coniazione ok degli nft sono al momento ethereum e ora è arrivata anche soliana ed è per questo motivo che soliana è anche salita tantissimo proprio grazie ai suoi nuovi nft ora vorrei vedere con voi il prezzo di soliana perché so che a molti interessa siamo a 162 dollari anche rispetto alla giornata ieri non è che abbia sentito tanto questo calo da parte di bitcoin ora che cosa mi aspetta soliana potenzialmente mi aspetto la rottura anche dei 200 dollari vi devo dire un'altra cosa però quando soliana diciamo scontrerà quella che è la sua notizia cioè a un certo punto arriverà un limite che naturalmente nessuno sa qual è attenzione perché potrebbe arrivare un ingente scarico però per il momento soliana veramente non sembra avere rivali e non sembra avere limiti andiamo a vedere infine anche cardano perché ci sono numerose critiche nei confronti degli smart contract alcune persone naturalmente stanno buttando fad su cardano e diciamo abbiamo visto che anche il prezzo ha subito una notevole contrazione ora in molti dicono che cardano sia uno scherzo del mondo del cripto cioè salita un po così per caso e così via ora vorrò vedere se effettivamente charles oskinson riuscirà a farsi valere all'interno di questa faida che di fad che arriva sempre su cardano per il momento io quello che vorrei dire a charles bravissimo perché se partiamo esattamente rispetto a un anno fa cardano valeva 10 centesimi ora vale 2,36 quindi penso che sia prettamente anche invidia nei confronti di cardano al momento il prezzo è di 2,36 come avevo detto dalle mie idee proprio ieri secondo me potevamo arrivare anche a un punto di tangenza di 2,20 siamo addirittura arrivati a 1,92 non mi sorprende perché cardano che ci abitua a questi movimenti molto repentini anche qui da 2,47 a 0,96 e come ho sempre detto io non comprerei mai cardano inolta mai piuttosto aspetterei degli scarichi lo scarico qui è arrivato probabilmente a questo punto metteremo anche come si muoverà bitcoin e l'altcoin in generale però se dovesse tornare nuovamente entusiasmo sulle cripto che secondo me tornare a prima o poi cardano potrebbe tranquillamente risuperare i 3 dollari è per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggere il bottone like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto grazie grazie